I 48 italiani sono bloccati in Congo con i loro figli adottivi. Che cosa sta succedendo? Stanno aspettando una risposta dalle autorità congolesi per essere in grado di uscire dal paese con i loro figli adottivi che dal lato italiano hanno tutti i documenti in regola e però aspettano dal lato congolese una serie di lascia passare per poter formalmente completare la procedura di adozione. Nelle scorse settimane la visita della ministra Chiang sembrava avesse sbloccato la situazione. In realtà poi le cose sono andate diversamente. In realtà noi stiamo parlando di un paese, la Repubblica Democratica del Congo, che è un paese che in questo momento attraversa una fase in cui il governo è dimissionario e quindi probabilmente le rassicurazioni che ha avuto il ministro non sono state rassicurazioni abbastanza solide. E quindi effettivamente noi abbiamo 48 connazionali con dei bambini che aspettano un nulla osta definitivo. Il governo italiano ha delle responsabilità nel far sì che delle persone che sono partite sulla base di una rassicurazione di un ministro del governo italiano possano effettivamente ritornare. Non è accettabile che ci siano 48 connazionali che aspettano sulla base appunto di un via libera a partire venuto da autorità italiane che non possano più ritornare. Quindi ci deve essere un impegno più forte di quello che c'è stato fino ad ora e noi come parlamentari del Partito Democratico ci stiamo impegnando sia sul ministero dell'integrazione che chi ha la responsabilità diretta sia sul ministero degli esteri che nel caso di connazionali all'estero in difficoltà deve sostenerli come sta effettivamente facendo a fare sì che venga un contatto politico forte, importante e che aiuti queste persone è ritornare in Italia con i loro bambini prima di Natale.